La soluzione di automazione oggi più diffusa nel mondo della macchina utensile è sicuramente il direct loading o carico diretto del pezzo, dove il robot è impiegato per caricare in macchina utensile i pezzi grezzi e scaricare i pezzi finiti. Queste soluzioni sono particolarmente idonee a lotti di grandi dimensioni e apprezzate dai clienti grazie all'ingombro ridotto e costi contenuti soprattutto se confrontate con altre soluzioni presenti sul mercato come ad esempio complessi sistemi a fms. Per la presa di pezzi possiamo equipaggiare il robot con numerosi sistemi di presa shunk come ad esempio pgn plus p il nostro gripper a due griffe vero e proprio riferimento del mercato in termini di prestazioni affidabilità e durata pzn plus il nostro gripper a tre griffe che permette una presa solida e precisa anche su pezzi circolari e mh sistema di presa che sfrutta la tecnologia del magnete elettro permanente permettendo di gestire pezzi ferrosi dall'elevato peso in totale sicurezza anche in caso di mancanza di corrente. Il polso del robot può anche essere equipaggiato con un sistema di cambio rapido automatico shunk svs che permette al robot stesso di riattrezzarsi con il sistema di presa più idoneo per il prodotto da manipolare. Lato macchina utensile sono numerosi i sistemi di serraggio stazionario che possono essere impiegati in un'applicazione di questo tipo. Morsa tandem la nostra morsa automatica ad alta precisione e ripetibilità ad attuazione pneumatica ed idraulica. Rota TPS il nostro mandrino autocentrante stazionario ad attuazione pneumatica. Vero S il sistema punto zero per il retrezzaggio rapido e preciso del centro di lavoro. Se l'applicazione da automatizzare riguarda lotti di grandi dimensioni il carico diretto del pezzo è sicuramente la soluzione più idonea. All'interno del portfoglio di soluzioni shunk possiamo trovare quindi il prodotto giusto per equipaggiare il polso del robot e riattrezzare la macchina utensile.